Io sono Ghirardi Anita e sono presidente della società di mutuo soccorso di Briccherasio. La società di mutuo soccorso di Briccherasio è nata nel 1871 e non fu certo la prima società nata perché la prima società in zona è quella di Pinerolo, però comunque aveva avuto una vita molto attiva, infatti già nel 1878 contava 152 soci e nel 1894 ne contava 331. Briccherasio si impegnò da subito nell'attività mutualistica, cioè c'erano i sussidi continuativi e straordinari per malattia ai soci, per inabilità al lavoro, si dava anche il contributo per le spese funerarie, ma venne pure aperto un magazzino di previdenza, si chiamava, che dava la possibilità ai soci e ai loro familiari di acquistare generi di prima necessità a prezzi molto convenienti, e quindi era un aiuto diciamo per una possibilità. Di questo ne abbiamo conferma nei documenti, nei pochi documenti originali che ci sono rimasti. e tutto era organizzato in modo preciso, serio, oculato e anche molto democraticamente. Nessuno poteva approfittarne. Abbiamo, infatti, abbiamo dei documenti prodotti dal medico curante del socio, in cui veniva attestata la malattia, il verbale del controllo dell'addetto che confermava esattamente la dichiarazione del medico, e il tutto organizzato in modo equo, chiaro e controllabile. Ma c'era anche l'altro aspetto, cioè c'era anche il piacere comunque di stare insieme, di ritrovarsi, e spesso si facevano delle feste con i comitati di festeggiamenti molto attivi. Infatti, delle feste di Briccherasio c'è persino notizia a Torino sulla Gazzetta del Popolo. Il 3 marzo 1895, in cui si pubblica appunto un articolo facendo i complimenti al comitato festeggiamenti della società di mutuo soccorso di Briccherasio. Quindi i soci di Briccherasio non rimanevano isolati, cioè volevano anzi essere informati di tutto ciò che avveniva da altre parti, infatti partecipavano a congressi sulla mutualità, a gite di istruzione. Addirittura abbiamo la documentazione di tre comitive che vanno a Torino, alla grande esposizione generale, organizzata nel 1898. Da questi documenti si rileva che comunque i soci sono tornati a casa entusiasti e impressionati dalla grandiosità di questi padiglioni d'ingresso. Quindi è una società che vuole avere contatti con l'esterno. La nostra società possedeva anche una bellissima bandiera, a detta dei soci che sono adesso deceduti, che però negli anni bui è andata persa. Adesso ne possediamo un'altra, altrettanto di pregio, confezionata negli anni 90 con l'aiuto della regione Piemonte. Purtroppo durante il periodo fascista la nostra società insieme all'altra società che c'era pure Briccherasio, la società militare, vengono sciolte per fondare una nuova società cooperativa sotto il controllo dell'ente nazionale fascista. C'era Briccherasio c'era pure una società femminile che probabilmente a quel periodo fascista non esisteva già più, che comunque era stata fondata nel 1880 e che ebbe un'attività più modesta rispetto a quella maschile. pur tuttavia anche importante a dimostrazione della capacità e della caparbietà delle donne di Briccherasio. Quindi a Briccherasio le donne si sono date da fare, anche loro, e hanno fondato una loro società. Col trascorrere degli anni la società che era diventata cooperativa perde di importanza e addirittura nel 1987 viene venduto a poco prezzo l'edificio, sede della società che era stato acquistato negli anni dai soci con molti sacrifici. Quindi un bellissimo edificio che apparteneva alla società viene venduto perché non c'era più interesse a proseguire. Vanno perduti anche una buona parte dei documenti, appunto anche in questa sede che si perde la bandiera e i mobili di pregio che comunque i soci avevano acquistato. Sembrava appunto che tutto dovesse finire lì alla fine degli anni Ottanta. Poi un piccolo gruppo, molto piccolo, di cui facevano parte tre donne, prende in mano la situazione, la società non si chiude, ma prende nuova vita e vigore. Abbiamo cominciato a far parte della consulta delle società di mutuo soccorso del Pinerolese e anzi la società di Briccherasio è tra i fondatori della consulta delle società del Pinerolese. E anzi, con l'aiuto diciamo, e abbiamo in questo periodo cominciato a restaurare anche i locali dell'attuale società, perché la società attualmente è in altri locali che comunque sono di proprietà della società. Quindi con l'aiuto della Regione Piemonte e in particolare con la dottoressa Gera, Bianca Gera, che ci è stato molto vicino e ci ha aiutato veramente, siamo riusciti a cominciare a restaurare i locali. Quindi la società prende di nuovo vita. Attualmente la società ha aumentato notevolmente negli anni... Ah, poi abbiamo fatto parte, cioè quando è nata la società mutua pinerolese, la società di Briccherasio è stata anche tra i fondatori della società del mutua pinerolese, che adesso poi è attualmente mutua Piemonte. E tra i soci fondatori c'era anche la società di Briccherasio. Anzi, la società di Briccherasio ha pure dato un... diciamo, ha aiutato finanziariamente nel primo anno di fondazione, con i propri soldi, diciamo così, ad avviare questa mutua. Attualmente collaboriamo con la mutua Piemonte, infatti abbiamo, cioè noi diamo un piccolo contributo ai nostri soci che fanno parte della mutua Piemonte per l'assistenza domiciliare. Quindi noi aiutiamo, in parte, con una piccola cifra comunque, a pagare l'assistenza domiciliare. Prima del Covid, perché diciamo che c'è un prima e un dopo, e quindi prima del Covid abbiamo avviato anche una serie di visite di preventive, di prevenzione alle malattie cardiologiche con la società di Pinerolo. Con la società di Pinerolo e allora era presidente il dottor Sacchetto, quindi abbiamo collaborato in diversa occasione per attuare queste visite preventive per i nostri soci. Grazie. Poi comunque abbiamo anche la parte, diciamo, di attività ricreativa, nel senso che organizziamo gite culturali e turistiche, diciamo così, diverse volte all'anno. Anche qui abbiamo ripreso solo adesso perché col Covid siamo stati fermi in praticamente due anni e poi facciamo i soliti pranzi sociali che comunque hanno una buona partecipazione. Inoltre, poi mettiamo a disposizione la nostra sede anche per corsi, corsi di yoga, corsi a chi ce lo richiede, e quindi possono usufruire di questi locali che sono stati restaurati. Viene usata dai soci il giovedì mattina e due serate è aperta ai soci che vanno, che so, a giocare a carto, a intrattenersi o comunque avere un po' di vita sociale. Cioè, si fa quello che si può perché ovviamente non è che abbiamo un apparato per cui si fa quei soci attivi che ci danno una mano, si fanno queste piccole cose. Comunque, la società attualmente è attiva e gode di buona salute. Il problema grande è che mancano comunque i giovani, cioè mancano i giovani nel senso che siamo tutti un po' già attempati e quindi avremo bisogno di nuovi rinforzi. 200 eventi, eravamo 230 prima del Covid, poi ne abbiamo persi, quindi siamo un po' di meno. 2021 abbiamo festeggiato i nostri 150 anni di fondazione, è stata una bella festa, sono intervenute autorità varie e poi le consorelle, abbiamo avuto una buona partecipazione di consorelle presenti e quindi è stato per noi un momento di gioia, diciamo, di serenità, per cui lo ricordiamo volentieri. I soci fondatori, i miei bisnonni, sono stati in società, sia mio nonno e sia mia nonna nella società femminile, poi quando le due società si sono unite entrambi erano comunque soci, perché la nostra società era una società di operai e agricoltori, quindi da parte dei miei nonni erano agricoltori, quindi facevano parte di questa società essendo agricoltori e comunque avevano anche, ecco, bisogna dire che allora la società erano molto importanti, perché non c'era il servizio mutualistico nazionale e quindi praticamente la prima mutua erano le società di mutuo soccorso, per cui sono state importantissime da questo punto di vista, sia come malattia sia come infortunio e anche per questo che c'erano parecchi soci, cioè erano molti soci che comunque dovevano versare una certa versavano una una lira al al mese mi pare che fossero all'inizio per avere un fondo e quindi particolarmente è importante anche dal punto di vista diciamo perché i primi sindacati erano le società di mutuo soccorso perché per esempio nei documenti noi abbiamo lo sciopero delle donne della società femminile che lavoravano lì alla fabbrica Giretti di Briccherasio che dipanavano il bozzolo del bacco da seta cioè facevano questi tessuti e quindi nei documenti abbiamo proprio la documentazione appunto che queste donne avevano fatto uno sciopero perché erano state modificate le loro modalità di pagamento di lavoro anche quindi le società del mutuo soccorso sono state importanti per diversi motivi poi attualmente sono diciamo meno e meno importanti perché meglio così perché la mutua è nazionale e i sindacati hanno la loro attività e quindi però comunque hanno dato inizio a questa a queste cose ecco allora chi entrava in società aveva un'azione si chiamava cioè un documento e questa azione veniva si poteva tramandare cioè quando un socio moriva poteva darlo in eredità ai figli ai nipoti era chiuso comunque il numero a differenza di adesso che è aperto perché tutti quelli che vogliono iscriversi li prendiamo non è che accettiamo persone invece allora il numero era chiuso cioè prendevi tu potevi prendere l'azione solo e quindi quando è morta mia nonna che avevo 13 anni mia nonna mi ha lasciato in eredità l'azione della società e così sono entrata in società e da allora sono rimasta che